Musica Bene, sono stata invitata dalla giornalista, la dottoressa Donata Marrazzo del Sole 24 Ore e sono felicissima di aver accettato perché la struttura dove si è tenuto il festival qui dall'Anificio Leo è veramente meravigliosa e soprattutto ho visto dei lavori splendidi che potrebbero secondo me diventare, combinarsi bene con la matematica, con la geometria, con le arti tutte e quindi avere un respiro internazionale così come vedo già fare in giro per il mondo. Quindi veramente delle possibilità uniche.